ragazzi stasera ore ventuno e quindici live prima parte di calciopoli con Effenberg e l'avvocato Pier mi raccomando vi aspetto non numerosi di più e per chi ci volesse sostenere lo deve fare lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi al canale un click un semplice click su iscriviti ed attivando la campanellina è molto più importante di quello che pensate un vostro semplice movimento con il titino ragazzi calma calma capisco la rabbia capisco la voglia di rivalza ma dobbiamo essere lucidi calma e così va bene ok lo sfottò non oltrepassiamo mai il limite ci sta lo sfottò su quello lì che oggi stamattina ho detto e si asciuga i appelli ogni cartone della pizza siete scoppiati tutti a ridere ma va bene così ci sta lo sfottò come quando si pettina con la coppale oppure si pettina con la resina va bene tutto l'importante è non fare come loro l'importante non scendere al loro livello perché da quello che mi hanno scritto sono partite le denunce e leggo leggo un messaggio che è sotto l'ultimo video di Matteo Santini penso di poter fare Matteo il tuo nome e cognome fammi sapere perché in caso eh poi dopo insomma eh qualche maniera faremo insomma cancellerò questo questo pezzo di video qualora non andasse bene il fatto che io abbia fatto il tuo nome ciao Giuse una puntualizzazione a ciò che dici al minuto quattro e venticinque l'avvocato Pier che è spesso con te in live ti confermerà i reati non sono solo penali ma gli altri reati sono illeciti illeciti di amministrativo certo eh l'ho detto più volte Matteo è finita a taralluccio e vino con la giustizia sportiva ma ora c'è un processo penale per la Juventus da affrontare il signore in questione si beccherà numerose querele caro Giuse questo perché io ed altri amici nei razzurri abbiamo deciso di fare una class una class action con l'aiuto di un noto prestigioso studio legale per querelare quel signore e i suoi sodali per i reati di diffamazione e calugna nonché un risarcimento costituendoci parte civile in quanto tifosi dell'inter purtroppo a forza di stuzzicare il fuoco alla fine viene fuori la fiamma ragazzi trovate gente come Matteo che magari alla fortuna di poter spendere quei mille duemila euro e vi fa un culo sì poi dopo alla fine perché non esiste diffamare un pm su youtube voi avete diffamato un pm su youtube e questo anche a chi vi segue deve far capire il vostro livello voi siete di un livello non basso sotto terra perché solo un idiota può diffamare un pm in un video facendo il suo nome e cognome solo un idiota come voi lo può fare alla fine si troveranno ovvero a fare nessuna pietà per certa gente persone che diffondono solamente odio ed il loro rigore tutto il contrario di quelle doveva essere lo sport sono d'accordo con te Matteo sono d'accordo ripeto spero non ci sia problema per il fatto che abbia letto il tuo messaggio purtroppo chi semina vento a casa mia e non solo a casa mia raccoglie tempesta perché i tifosi dell'inter ora di certi personaggi soprattutto si sono rotti i coglioni io Matteo parlerei sempre in riferimento a belli capelli lì parlerei di un disagio fanatico parlerei Matteo di un fanatismo e perversione parlerei di fuffa di smog quello fa solo smog quello non fa nemmeno fumo quello fa solamente smog te no te bisogna aprire guardate gli ospiti che hanno certi personaggi ospiti di una certa caratura non vanno sui canali chissà perché ragazzi devo dire una cosa importante non sto scherzando intanto vi rinnovo vi rinnovo un attimino vi rinfresco le idee ci volete stare accanto lo potete fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendovi al canale perché saremo attaccati da tutti ma non voglio fare la vittima ci attaccheranno tutti con calciopoli con capelli al vento li lo sapevamo non siamo bambini sappiamo a cosa andiamo incontro voi sapete benissimo noi abbiamo anche avuto molte questioni degli interisti quando abbiamo esposto la situazione debitore dell'inter mi hanno contattato delle persone che sono disposte a fare un esposto verso la giuventis disposti a mettere su un pool di avvocati per fare quello che ha fatto identità bianconera ragazzi indipendentemente dalla fede bisogna io sono io io sono sempre per la giustizia sono per la sincerità sono per la verità indipendentemente dalla fede che loro hanno io ho parlato un irresponsabile legale di identità giuventina e vi posso garantire indipendentemente poi dalle idee calcistie che sono totalmente diverse dalla fede dalle sensazioni e dalle emozioni io ho parlato con un gran professionista ma a parte quello mi hanno contattato dei ragazzi e sono disposti a spendere perché ragazzi per fare queste cose c'è ti devi affidare a gente brava professionisti bravi costano e vogliono fare un esposto alla giuventus allora io mi sono confrontato con l'avvocato pierre stamattina proprio per quello che mi hai scritto te l'esposto come ha fatto fondazione identità bianconera a volte chiedo scusa a volte sbaglio il nome non lo faccio per non riesco a ricordarmelo quel nome allora impostato in forma di esposto senza accuse precise perché l'entità giuventina ha fatto un esposto senza accuse usando molto il condizionale correggetemi se sbaglio ma è così voi che l'avete letto allora quindi impostato in forma di esposto senza accuse precise ma con la richiesta di indagini sulla base di un'esposizione dei fatti ovviamente reali si può fare un esposto pagate un avvocato e fate un esposto alla juventus ai milan a chi vi pare a voi lo potete tranquillamente fare ma attenzione però non è che lo puoi fare così tanto per lo puoi fare solo ed esclusivamente l'esposto ascoltami perché lo sto facendo anche per te l'esposto lo puoi fare ma su fatti nuovi perché questi fatti qui di cui stiamo discutendo in questi giorni la bomba è tirata fuori Gigi Moncalvo sono fatti relativi al processo prisma che a livello penale già stanno andando avanti quindi non puoi farlo l'esposto su queste cose video di fare esposto su roba nuova che trovi oppure sui tuoi dubbi perplessità perché ragazzi c'è da dire una cosa e concludo il video invitandovi ad iscrivervi al canale e a venire stasera in live perché ci siamo rotti i coglioni anche noi come voi c'è da dire una cosa perché a livello della giustizia sportiva in riferimento a quello che dice Moncalvo soprattutto non a quello che dico io hanno fatto un patteggiamento sciagurato è stato fatto un patteggiamento sciagurato quindi è questa la situazione è questa e questo è il modo superante volete fare degli esposti dovete trovare delle cose nuove magari avete un dubbio su cose nuove pagate un legale vi consiglio di trovare degli esperti e fate l'esposto anche voi può nascere tranquillamente una fondazione identità nera azzurra rispetto alla fondazione identità gioventina non ci sono problemi lo potete si può fare io posso dire solamente una cosa in conclusione di video per chi volesse fare gli esposti ma non bisogna fare le cappellate attenzione perché poi ci si rimane male se qualcuno di voi volesse fare un esposto in maniera seria dettagliata oculata professionale con dei professionisti qualora avesse bisogno di documentazione qui la trovate ciao inter grazie a tutti